Come mai si trova il cavo FS18 ovunque? Perché l'elettricista medio è una pecora che fa quello che gli viene detto di fare, è una persona servile non solo nei confronti del cliente ma anche del distributore che lo comanda e gli dice questo qui è il cavo che è il sostituto del FRO e l'elettricista medio prende per buono queste cose qui e si fa inchiappettare. Oggi tu hai una grossa possibilità quella di smettere di seguire quello che ti dicono i distributori, quello che dicono i produttori di materiale, quello che ti dicono i colleghi non preparati e di seguire un percorso che ti spiegherò alla fine di questo webinar in cui avrai un'opportunità unica di qui fino al primo agosto. Quindi sfruttala perché è un'opportunità eccezionale ed irripetibile.